Cinque arresti, due denunce, un minorenne identificato, il sequestro di oltre 15 kg di esplosivi e il bilancio delle ultime 48 ore di controlli dei carabinieri di Bari e Bat. Nel taglio a Biceglie, due 35 anni sono stati arrestati perché trovati con cocaina, 25 bombe carta di produzione artigianale tipo cipolla, nel peso lordo di 180 grammi circa ciascuna e tre batterie di tubi da lancio contenenti complessivamente 974 grammi di polvere da sparo. A Trinitapoli è finito agli arresti domiciliari un ventenne trovato invece in possesso di 30 artifici pirotecnici, non di libera vendita, contenenti una miscela esplosiva complessiva di circa un chilo e mezzo e nove ordigni artigianali di circa 1,2 kg complessivi. A Modugno i carabinieri hanno arrestato invece un 48enne con quasi 500 ordigni esplosivi del peso di 7,8 kg e un 44enne per spaccio di stupefacenti. Inoltre è stato denunciato a piede libero un 61enne pregiudicato che trasportava a bordo di un furgone due confezioni con 20 petardi, non di libera vendita, due batterie di tubi da lancio da 36 pezzi ciascuna e un tubo da lancio da 100 pezzi. A San Nicandro è stato denunciato un 18enne trovato con 6 petardi di fattura artigianale e una cassetta di fuochi pirotecnici non di libera vendita. A Bari, nel quartiere Libertà, i militari hanno identificato un minorenne sorpreso a lanciare petardi in strada e trovato in possesso di 10 artifici pirotecnici non di libera vendita.